ciao marcello ciao a tutti gli amici di top land juventus batte roma 1 a 0 risultato che un pochino sta stretto per la mole la mole di occasioni che abbiamo creato durante il match io la partita la inquadro in due e sotto due due punti di vista ben diversi no in due momenti due fasi della partita ben diverse il primo è dal dal inizio dal primo minuto a 20 dalla fine in cui la juve crea tanto segna spreca tanto e concede alla roma una sola occasione da gol nel primo tempo con el sharawi occasione disinnescata da un ottimo da un ottimo uoichek scesni la seconda invece chiave di lettura la seconda la seconda parte della partita quindi a 20 dalla fine complice l'uscita di matuidi ecco la juve in quel caso si è abbassata troppo ecco perché dico che matuidi è sempre più fondamentale nei meccanismi nei meccanismi difensivi della della squadra a 20 dalla fine esce matuidi per crampi aveva corso per 10 monumentale anche la sua prestazione anche ieri sera entra marchisio che non ha esattamente le stesse caratteristiche di corso di matuidi e li andiamo un po in sofferenza la juve si abbassa un po troppo allegri inquadrato a bordo campo era una furia una furia per essersi troppo abbassati quindi concedendo tanto campo agli avversari e soprattutto per non averla chiusa prima è questa è una grande pecca della squadra che non è riuscita purtroppo a chiudere prima la partita nonostante le tante occasioni ne ricordo tre su tutte la traversa di pianici dopo una galoppata di 50 metri a palla al piede e le due occasioni tu per tu con il portiere della roma allison di iguain che le ha sparate tutte e due alte e non è da lui comunque dicevo dopo tante occasioni sprecate e allegri una furia a bordo campo la roma a 20 dalla fine ha preso campo e ci ha schiacciati quasi nella nella nostra area noi qualche mezza di partenza ma con molta fatica riusciamo a farne e a parte la traversa di florenzi un'altra grande vera occasione da gol al 94esimo dei minuti finali cui chic si è trovato dopo una carambola prendi tu la prendo io la prendi tu la prendo io tra benatia e chiellini la palla passa chic si trova quasi a battere un rigore in movimento ma grande monumentale vuoi cec cesni ancora dirgli di no e a blindare il risultato c'è da migliorare prendiamo il buono lo prendiamo i tre punti il risultato il fatto di stare ancora in scia al al napoli aver distanziato la terza in classifica la milanese internazionale di milano l'abbiamo staccata gli avevamo dato tre punti fondamentali no nella corsa poi al titolo quindi adesso si sta creando quasi una coppia in fuga ma è ancora presto e niente c'è da dire c'è da dire solo che questa juve ha sbagliato veramente tanto ma se ci fosse ci fosse stato qualche dubbio dubbio sul futuro di buffon che a fine anno si ritira ecco che complice il suo infortunio diciamo suo stop forzato sta dando modo piano piano a cesni di giocare con qualche partita di continuità e quindi di vedere veramente il suo valore se ce ne fosse stato qualche dubbio abbiamo scoperto che può essere la persona può essere il portiere giusto per già dal prossimo anno prendere il posto di gg in porta capitolo a parte di bala di bala ieri si è scaldato tanto a lungo ma non è entrato io marcello scusa se faccio questa postilla da una parte un dice ma chi se ne frega di di bala abbiamo vinto va bene così io però voglio voglio dire voglio dire qualcosa perché sui post sui social sui post nelle varie trasmissioni televisive c'è ancora gente che critica allegri per questa scelta io penso io penso che massimiliano pur non amandolo non è un masochista non è una persona che ha il più forte della squadra e lo vuole lasciare fuori apposta per perdere per beccarsi critiche lo vede lui settimana come si allena se non l'ha fatto giocare c'è un motivo si vede che ancora non lo vede pronto per essere titolare almeno in campionato io penso che la juventus abbia trovato in questo momento con questo schieramento 4-3-3 con i tre centrocampisti quindi penso sia ormai diventato il marchio di fabbrica da qui a fine stagione cosa che io spiccavo più per la champions io penso che con questo modulo adesso abbiamo trovato con questi uomini abbiamo trovato un certo equilibrio che sicuramente non è il caso di andare a stravolgere per favorire un singolo giocatore perché la squadra i risultati di squadra vengono prima di tutto in questo momento non lo vede ancora al top e allora non lo fa giocare quindi basta questo Allegri non capisce perché non fai giocare Di Bala Di Bala avrà il suo spazio da qui a fine stagione quando sarà più forma quando sarà ritenuto giusto farlo giocare perché potrà essere utile alla causa per il momento avanti così adesso buone feste godiamoci queste feste e poi sotto il 30 con la partita di campionato l'ultima del giro in andata voglio concludere questo video augurando a tutti voi della redazione a voi del programma e a tutti quelli che ci seguono buone feste buona buona vigilia di Natale buone buon Natale buon Santo Stefano buone feste passatele in famiglia passatele bene che sia delle feste ricche di felicità tra tutti tra tutti voi con i vostri vostri cari e vostri familiari detto questo ci risentiremo poi per la prossima partita di campionato e fino alla fine forza Juve vamos